il vaccino esavalente contiene sei vaccini che proteggono contro sei patogeni diversi tutti molto pericolosi l'alternativa potrebbe essere quelle di farli singolarmente però siccome il vaccino esavalente e sono appunto sei antigeni e si devono fare tre richiami noi dovremmo fare 18 punture a un bambino c'è motivo per farlo no perché il vaccino esavalente funziona benissimo addirittura la presenza contemporanea di più vaccini li potenzia reciprocamente e in nessun modo questo vaccino affatica il sistema immune del bimbo perché ricordiamoci un bambino che esce dalla pancia della mamma incontra nei primi giorni di vita qualche miliardo di batteri virus parassiti contro i quali reagisce prontamente quindi non avremmo nessun vantaggio in termini di sicurezza non avremmo nessun vantaggio in termini di efficacia semplicemente aumenterebbe i costi perché bisognerebbe fare 18 punture invece di tre e soprattutto io personalmente 18 punture a un bambino quando gliene posso far tre mi sembra un'inutile crudeltà non avremmo nessun vantaggio in termini di sicurezza